Ma no! Ma no! Ma c'è solo telecamera al contrario! Ciao a tutti, benvenuti su Fumetti e Parole. Oggi vi faccio sentire il peso, il peso del fumetto francese. Mamma mia ragazzi, Gosmani, ma quanto è figo questo volume! Lo conoscete? No! Siete in quattro gatti a conoscerlo, o meglio. Io so che in pochissimi ne ho letto questo volume, ma ve lo consiglio tantissimo. Il primo motivo, i disegni. E adesso vi faccio vedere di che cosa sto parlando. Forse l'unica cosa che non mi piace dal punto di vista grafico è proprio la copertina. Però vabbè, hanno scelto questa immagine, che vi devo dire? Che vi devo dire? Ma quest'altra copertina è veramente bellissima. E poi aggiungo, guardate qua ci sono anche dei... così, guardate che roba! Questi sono i volumi, o meglio le copertine dei volumi stampati in Francia. In Italia appunto sono stati fortunatamente raccolti in questa edizione meravigliosa dalla Mondadori. Questi cinque capitoli sono così raccolti. E adesso vi faccio vedere qualche immagine qua e là. Cioè, probabilmente dovrei stare zitto, perché penso che bastino le immagini. Guardate, questa è la quarta di copertina riproposta in questo volume. Mamma mia! Tutto è bello. I colori, le scenografie, le ambientazioni, l'architettura, i veicoli, le follie tecnologiche. Guardate qua, le scene di notte, l'anatomia umana. Cioè, ho da dire tutto. Guardate che bello, questa isoletta dove il gruppo, questo commando di folli, si nascondono un po' dietro le organizzazioni americane, ecco, per debellare il mondo del terrorismo. Ecco, lì si rientrano in questa isoletta per creare il loro piano. Guardate, ah, guardate che bello. Adoro, tra l'altro, questi incisi, no? Sono i vari capitoli. Guardate qui che roba. Guardate, i notturni, di cosa stiamo parlando? I notturni sono uno spettacolo della grafica, dell'illustrazione. Guardate qui, guardate qui l'architettura, guardate. Guardate, il livello, la qualità. Incredibile. Incredibile. Adesso non penso sia troppo spoileroso perché è molto complesso come volume, molto lungo, tante pagine, bisogna un po' concentrarsi, quindi facendovi vedere delle immagini qua e là non penso di togliervi troppo il gusto poi della lettura, mai doveste andarlo a recuperare. Mi fermo? Sì, dai, mi fermo qua. Mi fermo qua. Avete visto? Cioè, avete visto che roba? Secondo motivo. La storia. È una storia scritta da Dio Smolderen. Non so se conoscete tipo Gipsy di Enrico Marini, ma date a vedere Smolderen quanti cose ha fatto. Cioè, non è il primo pirla. Tra l'altro, al di là del fumetto che ho letto, mi sono anche poi letto, eccolo qua, nella postfazione tutto quello che lui ha da dire in merito alla storia, alla politica, perché ha creato una storia fantapolitica, in un futuro non ben precisato, con delle tecnologie anche decisamente avanzate, però mai, non so, fastidioso. Sapete quando si esagera? Quando si fa fuori dal vasino? Ecco, non solo lui non ha fatto così. È stato in grado, nonostante abbia presentato, inventato delle cose che oggi non sono minimamente arrivabili, in maniera così naturale. Leggerle non ha creato nessun problema. Anzi, mi sono appassionato. Io che quasi odio la fantascienza, aver visto delle cose così folli, in realtà non mi ha creato nessun problema in termini di lettura. E poi, e poi, insomma, c'è di tutto. C'è il terrorismo, c'è il riferimento all'11 settembre, c'è l'amore, c'è il sesso, c'è una sensualità incredibile con queste ragazze che, nel loro intimo, nella loro intimità, nella loro camera, piuttosto che in una camera d'albergo, sono nude, si fanno la doccia. Ecco, mai volgare, sempre veramente sensuale, molto fine, dolce, e poi una crudezza, una cattiveria, delle torture con uno splatter, praticamente, e poi terroristi con i mitri in mano, con delle armi mai viste, con delle macchine, con delle botole. Ragazzi, la storia è strepitosa. Terzo motivo, il costo. 20 euro, che non è tanto, non è poco, ma bisogna sempre pensare al prezzo relativamente all'edizione che ti venne presentata. Qui abbiamo una quantità di pagine cosmica, ma oltre 300, guarda qui, una fogliazione esagerata, sopra le 300 pagine, a 20 euro. Un cartonato, diciamo che un cartonato Bonelli, ecco, più o meno è così, ok? Questo è un cartonato Bonelli. Cioè, capite? Questo potrebbe essere un saldapress. E invece questa Mondatori Oscar Inc. ci ha regalato un volume, scritto da Dio, disegnato da Bertail, cavolo, prima non l'ho nominato, in maniera magistrale, a 20 euro. Mamma mia. Ci sarà qualcosa che non mi è piaciuto, no, di questo volume? Cioè, non è che è tutto perfetto. Allora, in questa scena qua, praticamente, troviamo la protagonista, Linsley, che viene, così, salvata in maniera fortuita, dalla mega milionaria, o miliardaria, fate voi, insomma, il ricconazza, che poi la prende un po' sotto la sua ala protettiva, diventa la sua migliore amica, quasi una sorella, quasi un'amante, ma in maniera inspiegata. Cioè, queste due si incontrano così, durante la manifestazione, una salva l'altra, e poi da lì parte l'avventura. Questa cosa non è proprio limpida, ecco, non è proprio la cosa più limpida del mondo. E invece le cose che vi hanno fatto impazzire, ma proprio le tre cose più belle del volume, ve la butto così. La prima è l'operazione agli occhi di Ciamza. Perché? Eh, perché da lì nasce tutto. Da lì si scopre... Vabbè, non vi dico niente, non vi dico niente, eh, non vi dico niente, se no lo spoiler è dietro l'angolo. Seconda cosa che mi ha fatto impazzire, quando Ciamza viene, praticamente, imprigionata in un orfanotrofio. È in una struttura di massima sicurezza, viene sorvegliata, ma perché? Eppure lei è una potente, o comunque ha alle spalle qualcuno di molto potente, eppure anche a lei tocca. Ma non vogliamo parlare delle scene di guerra? Quindi, la terza cosa più figa in assoluto, eh, sono proprio le scene di guerriglia, di combattimento, di assalto, di tutto, di più, a terra, con degli esoscheletri, piuttosto che con un mitra, con un pugnale, qualcuno che si sgozza, qualcuno, insomma, i combattimenti sono disegnati da Dio, sceneggiati da Dio, strepitoso. Avevo detto tre, ce ne sarebbero altri cinquanta, ma ve ne butto un'altra, giusto così, una menzione speciale. vi parlavo prima della sensualità, e beh, quando troviamo delle scene di questo tipo, guardate, mai volgari, sempre dosate con il giusto tratto. Ti vengo a penneare a casa per te, ti do veramente un bacio enorme, a te, a te, proprio a te. Ah, volevo fare, volevo fare un video un pochettino più simpatico del normale, ok? Anche perché tanto sarete in quattordici a guardare questo video, ma perché ho scoperto che se vi parlo di un fumetto mainstream, conosciutissimo, acclamato, ma ancora ancora vi interessa, ma se vi presento qualcosa di nuovo, qualcosa di francese, qualcosa di ricercato, invece, tendete a non guardarlo. Fate voi, fate voi, rimanete nella vostra chiusura mentale, fumettistica. Invece io ci provo, ci provo. Allora, questo volume l'ho acquistato perché ho visto, non il video, ma così tipo una storia o adesso non mi ricordo bene, un'immagine impressa dell'amico vai perché l'ho acquistato e ne parlava veramente molto molto bene. Me lo sono letto, vale assolutamente la pena. Quindi, ve lo consiglio se siete arrivati fino a questo momento, beccatevi questo consiglio, trovate questo volume, si trova anche nel mondo dell'usato, ok? Spendete anche di meno, ma anche se spendeste i 20 euro, fidatevi, vale la pena. A prescindere che voi siate dei lettori buonelli di manga, comics e quant'altro, questo è un volume di struttura, di peso importante, cioè, i temi trattati, disegnati così bene, raro, raro, raro trovarli. E in più, raro trovarli a quelle cifre. Che video vuoi dire? Basta, dai, vi do appuntamento al prossimo video. grazie per tutto quello che scrivete nei commenti, fatemi sapere se l'avete letto, sono molto, molto curioso.